Ancora code nella prima mattinata di lunedì 18 ottobre i varchi di ingresso dell'exilva di Taranto per i controlli sui Green Pass, anche se meno lunghi rispetto a quanto accaduto nel primo giorno di entrata in vigore dell'obbligo della certificazione sui luoghi di lavoro. Al tempo stesso si registra l'aumento del numero di vaccinati, sia tra i dipendenti diretti che tra gli operai delle ditte terze, sotto il migliaio non immunizzati in entrambi i casi, senza contare però i 400 lavoratori sociali in cassa integrazione per impianti fermi da tempo, che non hanno ancora comunicato la loro situazione. I dati ufficiali dunque si conosceranno nelle prossime ore, ed intanto ha aumentato anche il numero di vigilanti addetti al controllo di Green Pass alle portinerie di ingresso. Sono previsti infatti i varchi dedicati per chi non è vaccinato e si sottopone a tampone periodico per la certificazione temporanea e i controlli sono manuali, poiché a questi lavoratori è stato disabilitato il beige. Ed intanto si terrà nella giornata di martedì 19 ottobre un incontro tra Confindustria Taranto e sindacati per affrontare la questione dei lavoratori, delle ditte e dell'indotto, entrati con forte ritardo venerdì scorso per i rallentamenti ai tornelli, dove veniva controllata la certificazione temporanea. Pur essendo in possesso del Green Pass, si erano visti disabilitare il loro beige, in quanto non era stata inviata da dettori di lavoro l'autocertificazione ad Acciaieri ed Italia. Al momento, a quanto si è preso, questi ritardi sono stati considerati assenza ingiustificata. Le sigle metalmeccaniche hanno chiesto che i costi siano a carico delle aziende e che non vengano penalizzati i lavoratori.